Buongiorno a tutti, l'ordine del giorno rega nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione degli investimenti funzionali all'esigenza del comparto difesa, l'audizione dei rappresentanti di Elesia e S.P.A. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e nonché sulla web tv della Camera dei Deputati. Saluto e do il benvenuto al dottor Fabio Saba, direttore commerciale, e al dottor Claudio Marchesini, direttore ricerca e sviluppo business shareholder, che ringrazio per la partecipazione ai lavori della Commissione, ai colleghi presenti e ai colleghi che parteciperanno alla seduta secondo le modalità stabilite dall'aggiunta per il regolamento del 4 novembre 2020, ai quali rivolgo l'invito a tenere spenti i microfoni per permettere e consentire una corretta fruizione dell'audio. Ricordo che dopo l'intervento dei nostri ospiti darò la parola ai colleghi che intendano porre domande o svolgere osservazioni. Successivamente i nostri ospiti potranno rispondere alle domande poste. A tal proposito chiedo ai colleghi di far per venire la propria richiesta di iscrizione a parlare, già adesso al Banco della Presidenza. Do quindi la parola al dottor Fabio Saba, prego. Buongiorno a tutti, grazie Presidente, grazie onorevoli per questa opportunità di poter raccontare un po' la storia di Elesia alla Commissione Difesa e se siamo tutti d'accordo vorrei iniziare facendo scorrere un video che rappresenta un po' l'Elesia e le sue capacità. Prego. Grazie a tutti. 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 Come vi dirò meglio dopo, siamo sbarcati in America perché abbiamo avuto manifestazioni di interesse da parte dei big della difesa mondiale come Lockheed Martin e così via, che hanno voluto valutare i nostri prodotti. E dunque, io vi mostrerò adesso una presentazione, purtroppo è estremamente tecnica, cercherò di non annoiarvi troppo e di fare la svetta. Sono tante diapositive, alcune sono ridondanti per cui cercherò di andare velocemente. Io ho il controllo del puntatore, sono d'accordo con... Perfetto. Vediamo se... Sì, ok. Allora, intanto due parole su chi compone la società. Vedremo dopo, ma siamo in tutta una cinquantina di persone. Il management che io rappresento... Il management è fatto di tre persone, tre soci, un amministratore delegato e presidente, un direttore tecnico e me stesso, in qualità di sviluppo business e visionario, diciamo, dell'attuale offerta di Elesia. Noi abbiamo tirato fuori adesso dei prodotti che sono veramente cutting edge solutions perché quello che noi oggi abbiamo in produzione è qualcosa che in termini di concezione risale ad almeno otto, nove anni fa. Quindi abbiamo pensato all'epoca che sarebbe stato interessante fare le cose in un altro modo, che sarà quello che vedrete. E quindi oggi siamo anche gratificati dal fatto che queste scelte di uso di materiali innovativi, uso di microelettronica, di nanotecnologie, rappresenti un po' un modo di fare che in tempi non sospetti questa società ha messo in piedi e ha concepito dei prodotti. Quindi il nostro... Sì, ma mi pare che non ci arriva. Ok. Quindi la vision che ci pilota è inventare, inventare nuovi prodotti, inventarli in maniera tale che vadano a coprire esigenze operative molto sofisticati all'epoca, oggi pane quotidiano. Quindi siamo nella categoria di quelle poche aziende che hanno tirato fuori soluzioni cosiddette disruptive, ok? E hanno cambiato per loro natura anche il modo di operare. E adesso vedremo vedremo perché. Quindi la nostra missione riguarda lo sviluppo e la realizzazione di questi prodotti. Mercati di riferimento difesa, senz'altro l'ottanta per cento delle nostre incoming revenue viene dal mondo della difesa. Ma grazie al fatto che utilizziamo le cosiddette CATS, Key Enabling Technologies o tecnologie abilitanti, che i discorsi che si facevano già anni addietro, quello che sviluppiamo per la difesa vedrete che ha trovato ragion d'essere anche nel mondo dei trasporti, per esempio, quindi il ferroviario in particolare. In termini di numeri, comunque la difesa è l'ottanta per cento delle nostre. Sì. Sì. Sì, ma è acceso così. Sì, ma è raggiunto. Ok. 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 Quindi siamo attualmente su due edifici per un totale di 4.500 metri quadri circa e due edifici perché il building, diciamo, dell'R&D, della progettazione, è in Elesia e in un altro building c'è la manifattura dei materiali compositi, che sono una delle tecnologie che stiamo utilizzando. Questo è lo stato corrente e le prospettive future. Siamo attualmente circa 52 persone, per 9 di 10 milioni, una buona percentuale di ricavi provenienti da R&D. Abbiamo tutti gli anni, approfittiamo dei bandi che vengono emessi, abbiamo ottime collaborazioni con le università romane, ma anche con qualcuno all'estero e quindi l'anno scorso, per esempio, abbiamo fatto due proposte su due bandi differenti, li abbiamo vinte tutte e due, abbiamo portato a casa quei 600 mila euro dedicati esclusivamente alla ricerca e sviluppo. La maggior parte dei nostri impiegati sono ingegneri o tecnici specializzati. Prospettive future, con la visibilità che abbiamo adesso, sempre Covid permettendo, questo lo devo dire, siamo seriamente intenzionati ad aumentare l'organico perché stiamo avendo un certo successo, specialmente all'estero, insomma. Quindi immaginiamo di riuscire a tirar fuori risorse per 18-20 ingegneri e tecnici con un margine che può cominciare a diventare interessante, insomma. Uffici di rappresentanza, in Italia abbiamo diviso, diciamo, Nord e Sud Italia, abbiamo due uffici a Torino e a Roma naturalmente e abbiamo nostri rappresentanti in Germania, in Francia e in Spagna. Come dicevo, pur essendo una PMI e con le risorse che avete, lo sviluppo dei prodotti che facciamo parte dall'analisi dei requisiti. Quindi ci poniamo di fronte all'ipotetica opportunità o cliente come coloro che capiscono il requisito operativo e cerchiamo a fronte del requisito di dare la risposta giusta in termini tecnologici, tutte e due hardware e software. Quindi la filiera della progettazione parte dall'analisi dei requisiti, quindi esegue il progetto, realizza prototipi. Abbiamo la capacità di fare rapid prototyping, usiamo per le parti meccaniche ad esempio stampanti 3D, oggi è diventato corrente l'utilizzo di queste tecnologie. Abbiamo una linea di manufacturing pura e data la natura degli oggetti e degli apparati che facciamo, sempre ci vengono richieste qualificazioni e certificazioni che dimostrino la capacità di tipicamente resistere ad ambienti estremamente severi dal punto di vista della temperatura, dello shock, delle vibrazioni e così via. Stiamo parlando del mondo della difesa. Come facciamo le nostre cose? Pur essendo una PMI di modeste dimensioni, oltre che partecipare ai bandi per ottenere fondi di ricerca finanziata, noi stessi la proprietà a tutt'oggi diciamo ha riversato quello che avrebbe potuto guadagnare diciamo in termini di margini in ricerca e sviluppo. Quindi tutto il management, questa è una nota, non so se è comune, ma ci tengo a dire che tutto il management è trattato, si è trattato a livelli ordinari, diciamo senza particolari benefici a fronte di nulla. Tutto quello che abbiamo lo riversiamo nell'RND e ci sta dando ragione. Quindi molta ricerca, utilizzo di tecnologie abilitanti, lecchezze che vedete laggiù, sono declinate appunto con microelettronica, materiali speciali, microelettronica custom, oggi c'è la crisi dei semiconduttori. Noi attraverso dei partner stiamo cercando di portare ciò che si trova sul mercato come elettronica di implementarlo a livello di circuito integrato per essere indipendenti da eventuali problemi derivanti dalle situazioni politiche che vediamo in questo momento. Per definizione conosciamo le esigenze del nostro mercato e di conseguenza in tempi non sospetti abbiamo detto vabbè proviamo a fare le cose come diciamo noi, qualche anno dopo è venuto fuori che abbiamo appreso che eravamo nella categoria di coloro che tiravano fuori prodotti disruptive, che vuol dire cambiare il modo di fare. Il vapore ha sostituito la trazione del cavallo, il vapore è stata e noi siamo in quella direttrice. Ovviamente cerchiamo di proteggere la nostra proprietà intellettuale attraverso brevetti copyright e così via ma anche qui questo in particolare è un punto di debolezza sul quale in futuro dobbiamo trovare aiuti consistenti perché le capacità di difendere una proprietà intellettuale da parte di una ditta di 50 persone che si confronta con il mondo evidentemente è ambizioso e nello stesso tempo è una battaglia persa se non ci si attrezza diciamo così. Ok, ho già detto prima che facciamo sia ricerca in generale ma facciamo ricerca di base e ricerca applicata divisa in due. La ricerca di base è fatta per il tramite e con la partecipazione di università italiane siamo estremamente familiari con l'università di Tor Bergata, dipartimento ingegneria e impresa qualcosa con la sapienza, rapporti interessanti e importanti con l'estero, il Tecnion di Haifa in Israele e alcune altre PMI o start-up come Nanesa che si vede in basso Nanesa è una società piccina tutta italiana che mette a disposizione e fabbrica il grafene questo materiale futuribile di cui vi farò vedere cosa diavolo ci facciamo. Quindi questa parte qui è estremamente importante anche perché come azienda siamo estremamente focalizzati sulla acquisizione di studenti in gamba nel senso che tutte le università tirano fuori un rango di dottorandi o di qualcuno che vuol fare studiare ulteriormente noi abbiamo iniziato con Tor Bergata tre, no, cinque anni fa e quindi le segnalazioni che ci vengono dall'università per il dottorando in azienda ce le pigliamo noi, ce le finanziamo e ci cresciamo diciamo le persone che riteniamo più adatte quello che facciamo con le nanotecnologie è il risultato di una collaborazione di questo tipo università-industria per quanto piccini anche lì nell'ambiente abbiamo ottimi rapporti insomma e questo ci gratifica moltissimo la ricerca di base quindi con l'università tiro fuori dall'università una materia prima, un componente, il grafene con cui poi cerco di fare qualcosa di pratico e questa è la ricerca applicata la slide che vedete mostra i due bandi che abbiamo vinto un anno e mezzo fa per la realizzazione di apparati elettronici che in volumi estremamente ridotti fossero in grado di gestire potenze di calcolo molto elevate quando si usa una potenza di calcolo molto elevata si scalda molto e quindi occorre smaltire il calore generato in maniera molto efficiente questo lo si è ottenuto attraverso l'uso di dissipatori che utilizzano il grafene il grafene a temperatura ambiente è un super conduttore termico quindi un dissipatore, quelli alettati che avete visto tante volte se trattato con il grafene smaltisce il calore di due ordini di grandezza superiori al normale materiali compositi abbiamo abbandonato definitivamente o quasi il metallo e tutta la gamma di materiali nuovi diciamo dalle fibre di carbonio alle fibre di vetro oggi sapete che che ne so la 380 il dreamliner è un aeroplano che ha una componente di materiali compositi superiori all'ottanta per cento e e perché i compositi perché intanto eh il materiale composito è qualcosa che pesa molto poco rispetto ai metalli in seconda battuta è oramai un tempo non lo era ma oggi è facilmente lavorabile con i tool che sono stati generati e soprattutto da dei gradi di libertà eh nella realizzazione delle strutture che poi portano l'elettronica e così via veramente veramente ragguardevoli le prestazioni sono entusiasmanti perché che ne so eh fibra di carbonio acciaio c'è un rapporto quasi sette a uno quindi peso nulla e resisto molto di più e e riesco a fare cose che con i metalli non riesco a fare un'altra buona notizia è che il lato negativo dei materiali compositi che è lo smaltimento a fine vita se questa esiste oggi è entrato in un meccanismo davvero di economia circolare cioè eh immaginate appunto chi costruisce un aeroplano grandissimo a degli sfridi li chiamiamo di di materiale pregiato questi sfridi materiali pregiato entrano in una catena di eh di chopping di sminuzzamento che rimette in circolo un materiale che è fibra di carbonio nobile sotto forma di un sembra un fluff di tessuto diciamo così che può essere di nuovo lavorato quindi eh tendenzialmente eh in questo senso vedremo anche più avanti queste scelte ci hanno consentito con molto anticipo di tirar fuori oggetti che adesso eh saranno saranno obbligatori la riduzione del peso la riduzione della potenza dei consumi eccetera va alla fine della fiera nella linea della riduzione della carbon footprint eh meno carburante eh o con lo stesso carburante vado più lontano una nave e così via sembra può sembrare eh un dettaglio immaginando una nave che trasporta tonnellate e tonnellate dice mh arriva l'elesia che fa una console che invece che pesare cento ne pesa dieci vi faremo vedere a conti fatti che il contributo è molto importante soprattutto quando si ha a che fare con sistemi difesa che sono tra i più grandi consumatori di di oil and gas del mondo come il pentagono tanto per dirne una motivo per cui siamo risultati attrattivi anche dall'altra parte dell'oceano è che qualcuno ha detto queste navi sono troppo pesanti noi l'avevamo pensato quasi dieci anni fa e quindi hanno detto ah accidenti se faccio la somma di tutto l'acciaio che posso risparmiare risparmio 10 tonnellate very good la risposta è diventato è diventato importante insomma tra l'altro in questo in questo momento siamo anche eh davvero un unicum ehm non esagero dicendo worldwide in che senso eh abbiamo il controllo della nostra filiera produttiva sia per la parte meccanica che per la parte elettronica e facciamo tutto in casa perché anche la società eh che che si occupa dei compositi è nostra e lavora eh mettendo in pratica le nostre idee questo è un una un processo di di manifattura il materiale composito grezzo arriva come uno scampolo di tessuto va bene impregnato di resina che viene spalmato su uno stampo e poi viene cotto in un forno che si chiama autoclave quando il prodotto è finito ottengo una forma resistente molto più dell'acciaio e con una straordinaria leggerezza non vi sto a tediare con i dettagli di eh non c'è ok ehm altra nostra particolare invenzione siccome il materiale composito carbonio vetro eccetera è un materiale naturalmente isolante di elettrico abbiamo dovuto provvedere a una trattamento superficiale eh con del metallo che viene applicato attraverso un processo che si chiama thermal spray e vi dovete immaginare una sorta di pistola per la verniciatura dove un metallo da porto viene fuso a livello di plasma e sparo questa vernice verso la superficie di carbonio e ne ottengo la la l'aggrappamento diciamo alla fine che cosa voglio fare voglio che su questa parete su questo materiale che entra in segamento un materiale chiamiamolo plastico ci sia una pellicola sottile poche centinaia di di micron nella nella peggiore delle situazioni perché perché i miei eh i miei contenitori i miei cabinet le mie console ospitano elettronica e devo schermare dalle emissioni elettromagnetiche e proteggermi da quelle indotte degli apparati vicini quindi ottengo le prestazioni della tecnica convenzionale dell'alluminio del rame eccetera ma sono più leggero e quella schermatura eh con un'alchimia eh di nuovo proprietaria posso renderla efficace a seconda delle frequenze sulle quali voglio dalle quali voglio isolarmi e non interferire ok sì ehm ok qui ehm abbiamo una rappresentazione testo questa presentazione poi la l'avrete per chi lo vorrà leggere ci sono i dettagli ma insomma tutto quello che ho detto va poi certificato da terze parti in maniera che eh effettivamente si possa salire a bordo di un mezzo navale aereo e così via dobbiamo essere assolutamente certi che quelli che portiamo sia omologo in termini di certificazione all'esistente quindi non dobbiamo dar luogo a a a nulla di strano uno degli aspetti più importanti è la resistenza al fuoco e alla generazione di fumi tossici e così via eh le soluzioni che abbiamo messo in piedi sono eh al pari o superiori delle eh tecnologie convenzionali quindi siamo certificati anche per applicazioni a bordo di sommergibili dove 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 il la la generazione fumi tossici e il fuoco è qualcosa importante come un aereo o o una nave eh questo è il case study della filosofia eh che gli americani sempre appassionati con gli acronimi hanno chiamato SWOP C che è eh in pratica significa riduzione di size quindi di ingombro di weight SW and power consumption ok in questo senso eh i nostri prodotti se confrontati con i prodotti analoghi in uso adesso appunto dicevo a posto di a in un sistema di controllo di una di una nave da guerra eh il semplice utilizzo delle nostre tecnologie fa risparmiare fino a tre tonnellate di peso e può sembrare eh come si dice trascurabile non lo è affatto nella testa del cliente insomma tra l'altro quell'elesia con quel logo e la piumina sta per dire che è un messaggio verso Greta Thunberg per dire siamo siamo attenti anche anche in questo in questo caso eh questo è scusate c'è un po' questo è mh ambiziosissimo il nostro ecosistema diviso cielo terra mare con i prodotti che riusciamo ad oggi a realizzare i maggiori prodotti che riusciamo a realizzare eh parlo di prodotti perché alcune soluzioni vengono effettivamente prodotte in serie sono tutte uguali ma siamo pur sempre veniamo pur sempre da una da una sartoria su misura no? Quindi siamo siamo eh capaci di fare di recepire il requisito di inventare nuove forme cominciamo a parlare di prodotti quando lo stesso oggetto viene prodotto effettivamente in un numero maggiore o superiore a cento unità diciamo questi sono gli ordini di grandezza eh di swap C abbiamo già parlato andiamo avanti eh ok qui c'è molta luce ma insomma ehm questo che stiamo vedendo ora è un è un cabinet eh con un formato standard che che è il rec 19 pollici e che contiene dell'elettronica anche qui eh che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto funzionalmente un oggetto che fa il mestiere di quelli che lo fanno in metallo la differenza è che pesa pesa nulla e ha un grado di robustezza eccezionale e rispetto a tutte le altre le altre caratteristiche che abbiamo che abbiamo detto prima questo ad esempio è un tipico assetto eh full composite dove ci sono computer e ehm quell'unità eh che che si vede eh sta per uscire dal dal drawer dal cassetto è un eh ridotto ai minimi termini con frigorifero è un piccolo cooler capace di raffreddare in autonomia tutto quello che c'è dentro a quel rec senza ricorrere a eh i sistemi esterni eh arriviamo a dimensioni importanti eh quindi con nel nostro gergo altezze fino a 42 unit che vuol dire che c'entra veramente tanta tanta elettronica con la stessa identica filosofia questo che vedete adesso invece è eh oltre che essere un record mondiale davvero eh ed essere uno dei nostri brevetti di punta è il primo eh shelter ISO venti vuol dire eh sei metri di lunghezza per due metri ottanta non lì dicono tutta la storia uno shelter di pari prestazioni militari oggi ha un peso vuoto di due tonnellate e due noi pesiamo novecentocinquanta chili eh lo shelter convenzionale di due due virgola due tonnellate eh a a quello che noi chiamiamo payload posso caricare circa il doppio della sua tara noi abbiamo certificato la nostra scatola di plastica fino a sette tonnellate eh la deformazione del materiale composito non è permanente come la metallo quindi io mi fletto eh mi mi aggiusto mi entro certi limiti non mi rompo e quando la sollecitazione del peso della vibrazione viene tolta ritorno nelle posizioni originari stiamo parlando di di slittamenti piccolini eh quindi molto interessante perché per esempio eh uno shelter di questo tipo può ospitare eh tanta roba una una un sistema di comando e controllo un un ospedale un una parte di un ospedale e così via con questi pesi io riesco ad alzare questo grazie a alla leggerezza lo shelter riesco ad alzare questo payload anche con un elicottero piccolo non ho bisogno del del Chinook del CH 47 insomma e questo è molto interessante ovviamente è un oggetto più costoso di un di un contenitore di metallo però anche qui eh vale il discorso dell'economia di scala se se dovessimo avere un ordine importante è chiaro che metteremo in piedi un sistema produttivo più più efficace ok veniamo un po' all'elettronica questo è stato il nostro primo successo è una console navale adatta per applicazioni a bordo di ehm battelli cacciamine tipicamente dove ci sono un sacco di requisiti di di a magneticità di di peso di di tutto quello che volete eh in questo senso è stato in assoluto la prima eh il primo sistema per operatori di di bordo eh sulle zampe non si vede ma ci sono dei computer dentro dentro a a quei volumi che costituiscono il supporto e e e niente questo fuscello eh che pesa vuoto pesa circa 40 chili ehm è stato certificato a shock estremi al CSSN ehm Spezia lo shock estremo è un martellone da 1500 chili che viene alzato a 270 gradi e poi lasciato per gravità colpire il basamento su cui è fissata quella console bisogna resistere per tre colpi per ogni asse X Y e Z e eh grade A significa tutto acceso software funzionante e deve funzionare tutto il secondo grado di della mil novecento uno D è il grado B che implica ti puoi rompere purché tu non eh non non trasmetti pezzi a a chi ti sta vicino insomma insomma se se la bomba è diretta no ok eh la stessa cosa un altro record personale è quello personale di Elesi è quello di aver qualificato a shock estremi uno schermo di grandi dimensioni con le stesse regole che ho detto prima insomma eh a bordo di di una nave di di display grandi c'è di per le rappresentazioni tattiche eccetera ce ne sono tantissimi insomma non vi dico quanti ne abbiamo rotti prima perché mi vergogno però eh eh e niente qui poi cominciano cominciano i prodotti diciamo di di serie attuale queste che vedete sullo sfondo sono le console del contratto per la nevi del Qatar che Leonardo ha portato a casa e Leonardo ha messo sul suo sistema di combattimento queste console Leonardo a tutt'oggi è uno dei nostri migliori clienti senza dubbio e quindi di questo eh lo lo chiamiamo prodotto perché ne abbiamo eh prodotto effettivamente 120 insomma tra l'altro è una è una postazione operatore molto universale fatemi dire quindi può essere replicata piuttosto facilmente ehm non si vede molto questo è un bridge integrato una plancia delle unità eh della Marina Militare le cosiddette UNPAV l'unità polivalente alta velocità che un paio di anni fa mi pare eh sono state date in dotazione alla Marina anche qui è stata una collaborazione Lesia Leonardo pur essendo tutto verniciato di blu in questo senso è la vernice istituzionale ma è tutto materiale composito qualificato come vi ho detto prima eh clienti all'estero questo è un piccolo sistema eh che fa tutto per una nave di una classe assimilabile a una corvetta in questo caso parliamo di nevi ecuadoriana l'Equador abbiamo scoperto essere una nazione giovane e eppure essendo diciamo non tra i paesi ricchi ha una eh competenza e una compito difficilissimo di salvaguardia del proprio spazio spazio mare perché sono anche i proprietari delle isole Galapagos e quindi è un'area di pesca estremamente importante e la Marina Ecuadoriana la difende in tutti i modi insomma lì vedete in pratica un grande display e due console ai lati l'insieme è tutto il sistema di combattimento di una corvetta perché un un operatore si occupa dei sensori l'operatore di sinistra può controllare eh i sistemi di contrasto le armi sul display grande l'ufficiale vede la situational awareness diciamo e quindi in questo senso è eh un CIC in a package come si dice ehm e è un buon prodotto anche questo perché è molto costo efficace qui ci sono altri esempi ci troviamo dentro ad uno shelter che ospita un radar magari il radar Kronos di Leonardo e anche qui ehm queste postazioni sono state inventate per dare la possibilità di operare il radar e di eh fare anche la manutenzione quando quando necessario questo è il nostro best seller come come lo chiamiamo cioè sono le console e i calcolatori che stanno nel basamento più universali e adattabili è quella che replichiamo eh in maggior numero eh clienti anche importanti recentemente hanno trovato eh il prodotto così come è stato concepito off the shelf adatto alla propria situazione uno di questi clienti per esempio è la tedesca Hansolt eh che è una società davvero ragguardevole e che si è dotata di queste console per i sistemi di bordo dei sommergibili che fanno loro Hansolt in particolare fa il sensore più importante del sommergibile che è il periscopio che che è un mondo a sé non è più quello dei film e quindi questo è stato di grande soddisfazione perché non ci hanno chiesto nessuna personalizzazione ce l'hanno comprate così come sono a differenza di qualche altro di qualche altro eh questo qui è una vista di un di un assieme di console di comando e controllo in una in uno spazio estremamente ridotto perché qui parliamo di sottomarini midget quindi piccoli come quelli che fa la società DRAS per esempio eh che è uno dei nostri nostri clienti cappelletti mi pare che abbia lui fatto anche un'audizione del campo e tavoli tattici eh con la possibilità di rappresentare la situazione corrente e la possibilità di avere il tilting di novanta gradi vuol dire che posso lavorare con lo schermo sul piano ma lo posso mettere in verticale in quelle situazioni dove devo fare un briefing di preparazione o un'azione a bordo nave eh e quindi gli ufficiali stanno a sentire quello che dice il comandante che lo rappresenta attraverso dei tablet o eh successivamente fatta l'azione a ritorno la fase di rehearsal di debriefing dove andiamo a vedere che cosa che cosa è successo quindi anche qui delle novità perché fino a qualche tempo fa a parte le tecnologie in sé il display eh orizzontale o verticale non non esisteva in realtà soddisfa un'esigenza operativa piuttosto eh piuttosto importante. Scorro? Stiamo andando oltre non mi rendo conto del tempo. Questi sono sistemi pallettizzati eh montato su pallet a bordo di aereo eh al posto di insieme alla alle parti logistiche o a o ad altri altri materiali che vanno trasportati possiamo mettere un sistema di comando e controllo. Questa è la con una consola avionica eh parliamo della guardia di finanza maritime patrolling eh con il P settantadue. Eh questi sono prodotti di ultima generazione quindi con delle features particolari che recentemente sono stati esposti eh negli Stati Uniti a una mostra evento che a quale abbiamo partecipato il nuovo tavolo tattico eh siamo anche distributori di pochi brand eh molto molto importanti sempre prodotti che riguardano il mondo IT calcolatori piuttosto che elementi di rete o apparati di telecomunicazione che sono funzionali ai nostri ai nostri ai nostri sistemi. Vado oltre. Ecco hm diciamo qua c'è eh saltiamo tutta questa roba qua e arriviamo qui che facciamo prima. Volevo farvi vedere una cosa d'assieme. Questa eh questa slide rappresenta eh l'ambiente naturale dei prodotti Elesia ma soprattutto rappresenta si non si vede molto ma vedete che ci sono dei loghi Alisport Swiss, Pixion, qua c'è Edge Lab e così via. Eh questa immagine rappresenta un aspetto molto importante della mia azienda che è quello di avere capacità di aggregazione. Eh tutti quelli che vedete lì sopra sono piccole e medie imprese, più piccole di noi che secondo noi hanno quel quel quid in più rispetto a quello che normalmente si trova. Ci somigliamo molto. Abbiamo tecnologie in comune. Tutti quelli che vi ho mostrato utilizzano materiali compositi quindi ci possiamo scambiare lavoro. Ma nello stesso tempo Elesia con questi eh partner è in grado di servire il mercato che chiede sistemi complessi. Vale a dire non mi limito più a venderti il calcolatore, la console con prestazioni particolari ma posso eh con i miei partner darti la possibilità di mettere insieme ad esempio un sistema di comando e controllo estremamente complesso perché ti posso dare dei droni, dei sistemi di comunicazione adeguati, un software applicativo, un altro partner che abbiamo piccino ma che fa un applicativo molto molto performante e anche lui abbastanza noto nel mondo insomma riusciamo ad essere qualcuno si dice ma che vuoi fare Leonardo? No non voglio fare Leonardo però ce la mettiamo tutta eh per cercare di eh coprire quegli stazzi no che le grandi organizzazioni non non riescono non riescono a coprire. Vuoi perché siamo più veloci vuoi perché siamo più piccoli ovviamente abbiamo i nostri i nostri limiti ma l'ambizione è sicuramente eh questa insomma e non è per niente nascosta. Eh qui finisco dicendovi vi avevo detto che usiamo tecnologie trasversali le le chiene blind technologies bene eh nei trasporti siamo nei treni eh treni vuol dire i tasci rail all'indomani della dello sbarco dei giapponesi in Italia e della vendita di Ansaldo Breda e Ansaldo STS ai tasci i giapponesi sono arrivati hanno fatto le loro cose hanno messo in piedi una struttura organizzativa fantastica e avevano abbiamo scoperto incidentalmente che alcune parti dei nuovi treni che sarebbero stati realizzati aveva senso realizzarli in compositi quindi quindi parliamo di elementi strutturali vedete qua qua giù c'è una una carrozza che in gergo si chiama imperiale che necessita di un tettuccio particolare eh perché ci sono i condizionatori d'aria ci sono impianti tecnologici e così via abbiamo al tempo accettato la sfida di sostituire quel pezzo di ingegneria col composito siamo in produzione da almeno quattro anni eh su tutta la la flotta di treni regionali eh che fa parte del del grosso contratto che a suo tempo fece la rete ferroviaria italiana sulla riciclabilità del materiale difficile abbiamo già dimostrato come con gli scarti della costruzione degli aeroplani si possono fare i cassoni degli automezzi che fanno la raccolta della dei rifiuti in questo caso il nostro tester è stato l'azienda mazzocchia di di Frosinone eh grazie a un progetto ricerca finanziata abbiamo sostituito un cassone pesantissimo e rumorosissimo con un con un oggetto fatto in materiale composito siamo su due programmi uno importante cinese eh per la realizzazione dell'MA settecento che è un aeroplano trasporto medio raggio eh che i cinesi costruiranno in migliaia di esemplari e per un problema tecnologico abbiamo siamo entrati eh realizzando dei pezzi strutturali di quell'aeroplano così come sul piaggio sul P180 Avant abbiamo parti strutturali in costruzione ehm perché insomma ci intendiamo un po' anche di queste di queste cose credo che siamo finito queste sono le nostre milestone più importanti quindi cosa abbiamo fatto nel corso del tempo per chi chi è l'utente qual è il tipo di veicolo e così via e i nostri clienti più importanti e e questi siamo un pezzo di noi insomma eh i i questa è la sede di Elesia a via Montenero Planatec che è ok quindi eh questi siamo noi non facilissimi magari da da capire però assicuro di una cosa sono certissimo ci contraddistingue a cominciare da me una grandissima passione per cui eh questo questo è il risultato attuale abbiamo anche noi subito il covid mi mi preme dire anche questo e quindi ci siamo trovati un momento in difficoltà però ora che tutto sta ripartendo siamo siamo di nuovo siamo di nuovo sul sul pezzo come si dice bene bene grazie io ringrazio il dottor Saba il dottor Marchesini ne assicuro che la passione si percepisce abbondantemente quindi è un complimento e grazie per la vostra relazione certamente molto dettagliata anche con un livello tecnico molto alto eh però sicuramente rende l'idea eh diciamo anche noi abbiamo dei riscontri in funzione delle nostre esperienze non da ultimo la eh missione in Albania con la Guardia di Finanza in cui abbiamo potuto vedere diciamo la console avionica sull'ATR settantadue quindi abbiamo avuto un riscontro proprio e quindi grazie per la vostra eh relazione io delle richieste di intervento iniziamo dal collega Deida prego collega grazie presidente eh spero che mi sentiate bene sì la sentiamo collega prego grazie mille e complimenti voglio fare complimenti a chi abbiamo dito perché è veramente un'eccellenza italiana come lei presidente abbiamo avuto riscontri anche visitando la DRAS per esempio eh dove hanno parlato benissimo del del lavoro e delle forditure a parte dell'importanza anche del eh del lavoro e a questo proposito sarò breve una domanda a uno voi lavorate ovviamente approvvigionandovi di materiali ovviamente ricercatissimi se in questo periodo avete avuto problemi di approvvigionamento e magari anche con l'aumento dei costi sia dell'energia sia dei prodotti stessi state avendo ovviamente un eh delle problematiche e la seconda domanda è una curiosità è anche un lavoro che eh esamineremo come commissione eh se voi con i vostri sub fornitori o con le imprese che lavorano con voi più piccole avete un modello di eh contratti o di collaborazione insomma di tipo europeo come le Orgalim eh o avete degli accordi insomma vostri? Grazie. Grazie a lei onorevole De Higda, l'onorevole Russo, prego. Grazie signor presidente, anche io mi associo ai complimenti soprattutto per l'energia che dimostrate di avere che tra l'altro è un'energia importante visto che voi con cinquantadue dipendenti riuscite a sostenere questa mole di lavoro immagino che sia veramente molto complicato e eh riferendosi eh prendo spunto anche da quello che ha detto prima il collega De Higda. Poiché adesso c'è c'è stata questa grandissima problematica legata ai semiconduttori. Come si pone la vostra azienda visto anche le specificità che eh proponete nella catena dei di produzione dei semiconduttori per questo ritorno diciamo in Europa in particolar modo in Italia. Ehm eh soprattutto poi perché trattate anche materiali molto pregiati che appunto nei semiconduttori sono molto importanti tipo il grafene e eh soprattutto quanto è importante e quanto pensate di sviluppare ulteriormente eh la componente dell'industria 4.0 all'interno della vostra azienda soprattutto perché vi si esegui i numeri di dipendenti avete bisogno di tanti macchinari e soprattutto non è che voglio che mi sveliate il vostro modello industriale ma qual è il vostro modello di business visto che avete pochi dipendenti ma tanta produzione. Grazie. Bene grazie a lei onorevole Russo, onorevole Resta. Grazie presidente eh intanto per ringraziare i gratuitissimi ospiti che ci hanno offerto davvero uno spaccato interessantissimo di quella che è la nostra indagine conoscitiva in particolare sulla pianificazione, sulla ricerca tecnologica, sugli investimenti e l'applicazione. Come ha ricordato il presidente siamo reduci per un'importante missione in Albania per cui abbiamo veramente apprezzato e toccato con mano dove è arrivata la nostra tecnologia grazie a Dio Made in Italy e quali sono le prospettive future di applicazione anche attraverso importanti settori quali quelli eh svolti dalla Guardia di Finanza di indagine e di ricerca sul territorio per cui da parte del nostro gruppo c'è veramente un apprezzamento per il lavoro svolto e come commissione non possiamo far altro che ecco sondare questi campi che poi possiamo effettivamente applicarli nel corso del nostro intervento. Grazie. Grazie a Leonardo Reola resta. Io non ho altre richieste di intervento pertanto darei la parola ai nostri ospiti per la replica. Dottor Marchesini. Prego. Microfono. Sì. Provo a rispondere alla domanda. Tanto lavoro poche persone. È così. È così ehm però eh diciamo abbiamo un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato eh ma non quanto vorremmo ovviamente. A proposito industria quattro punto zero sì qualcosa abbiamo cominciato a mettere in piedi ma non quanto vorremmo. In parole povere eh da questo punto di vista la sintesi dell'organizzazione aziendale è sicuramente tanta passione pilotata da scelte visionarie di cui mi attribuisco i demeriti e i meriti. Ehm l'unicità eh del lavoro che facciamo tra l'altro richiede risorse davvero molto specializzate perché non è facile costruire le cose con questi materiali. Ehm e però è quello che abbiamo fatto ora eh sicuramente siamo in una situazione dove ci servono le spalle più grosse in termini di persone in termini di risorse in generale perché eh siamo quei numeri sono casualmente anche nella divisione standard che si fa da PMI PMI a mondo di mezzo e grandi aziende. La tendenza è quella di riuscire ehm nel nostro lavoro e riuscire a assumere personale. Io su quella slide ho messo almeno altri diciotto ingegneri eccetera eccetera. Però effettivamente come come facciamo? Abbiamo intanto una rete di sub fornitori che ci siamo andati a scegliere uno per uno e con cura. Nel mondo del composito in Italia eh siamo andati nel bacino della Formula Uno in Emilia. Eh io nel mio pregresso ho lavorato anche con Ferrari quindi conoscevo un po' e abbiamo trovato un manufacturer puro perché anche lì chi vado a trovare no? Eh quindi abbiamo trovato un manufacturer puro che eh sa fare parti strutturali. Quindi quando abbiamo il lotto di cento unità eh una buona parte del lavoro viene data all'esterno. Certifichiamo prima l'azienda, abbiamo il controllo di qualità e così via però insomma questo è. Tendenzialmente Elessia nella mia visione deve rimanere nel mondo dell'ingegneria e continuare a fare le invenzioni diciamo perché la rampa di salita della modernità è incredibilmente ripida e non 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 ci si rende conto se non se non si non si non si gioca con queste cose. Quindi eh al momento siamo organizzati in questo modo abbiamo il controllo intero della filiera dalla progettazione e realizzazione più sub fornitori. In prospettiva non basta. In prospettiva dobbiamo avere benzina per aumentare industria quattro punto zero e anche il personale. Rimanendo sempre non dimenticando mai le origini e la focalizzazione del nostro del nostro eh dei nostri sui nostri prodotti perché specialmente in momenti di difficoltà come questo che abbiamo appena passato per il covid la tentazione come diciamo noi di sparare a tutto quello che si muove pur di portare pur di portare a casa i ricavi è forte e invece dobbiamo resistere e mantenere la barra dritta anche quando c'è tempesta. In questo senso è evidente che eh in un sistema ideale di industria paese eh personalmente ritengo che eh le istituzioni ci possano dare una mano. Noi ci siamo già mossi in questo senso e abbiamo avuto eh i nostri riscontri. Quindi quando abbiamo fatto ricerca eh vinto bandi ricerca finanziata ad esempio o quando abbiamo iniziato a parlare con con Cassa Depositi e Prestiti che eh come dire ci ha accolto favorevolmente ci sta esortando oltre che a produrre documentazione e piani di business in una forma leggibile perché noi siamo tutti molto tecnici no? Quindi in questo senso eh CDP ci sta dando una mano. Abbiamo chiesto e fatto il bando per l'internazionalizzazione perché immaginiamo di poter aprire due realtà prima commerciali successivamente produttive una in Germania e una negli Stati Uniti. I motivi sono semplicissimi. La Germania in questo momento in Europa è il paese che ha il budget più importante di tutti nel mondo della difesa. Quindi per una mera speculazione diciamo di quantità Germania è rimasta con la difesa veramente a trent'anni fa no? E quindi c'è di di lavoro ce n'è tantissimo. La collaborazione con i tedeschi. Noi siamo entrati in sintonia con Ensold un anno e mezzo fa. Ancora prima che forse Leonardo pensasse di di entrare in Ensold. Quindi anche in questo senso siamo armati di di buona volontà voglio dire. E poi gli Stati Uniti perché gli Stati Uniti anche qui eh succede che eh il numero uno al mondo in Canada parte con un programma che si chiama fregate classe combattante di oramai tre anni anni fa e Lockheed Martin Canada eh dice eh questa nave è troppo pesante e incidentalmente eh siccome io ho un pregresso eh anche sono un ex manager di Leonardo di data parte di tante cose altre cose sono vecchietto eh io ho lavorato con Lockheed Martin e quindi ho detto guardate che c'è qualcuno che in Italia fa queste cose. Lockheed ha comprato una un nostro prodotto per valutazione e ha detto crescete un attimo e poi e poi ne riparliamo. Quindi di questo siamo particolarmente orgogliosi perché insomma una una un 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 negozietto di guidonia che è riuscito a vendere a Lockheed Martin non è cosa di tutti i giorni. Quindi in questo momento negli Stati Uniti là dove è sbarcata anche i fincantieri dove ci sono i nuovi programmi ehm siamo ci siamo anche noi siamo stati presi in considerazione proprio per le cose che facciamo sulle nuove costruzioni. Quindi al momento non abbiamo nessun nessun business in atto però eh anche lì abbiamo montato il filmato che avete visto pubblicitario all'inizio abbiamo investito noi realizzando tre quattro dei nostri pezzi funzionanti li abbiamo mandati negli Stati Uniti ad una mostra dove c'era anche fincantieri eccetera e lì sì per noi in era covid in era covid vi dico anche questo per incoraggiare altri imprenditori stiamo un cliente importante per noi è un cliente infarista che è la Marina Pakistana. Recentemente abbiamo inaugurato un modo di fare collaudi finali e emissione della fattura completamente telematico cioè la nostra console viene spedita al cliente che la connette ad internet e la faccio semplice noi da remoto la controlliamo poi mettiamo una telecamera sul nostro tester e il signore che sta dall'altra parte virtualmente muove la console vede il risultato con l'audo passato sta fattura inviata nessuno si è mosso da casa quindi più di questo come dire non sappiamo cosa inventarci per portare a casa il business e quindi ora se avremo la possibilità di avere questi fondi per l'internazizzazione ci metteremo la giacchetta e andremo a vedere cosa diamo che possiamo fare insomma. Bene grazie dottor Marchesino io ho un'altra richiesta di intervento da parte del collega a Duva prego quest'ora. Sì grazie sentite? Sì la sentiamo bene. Buongiorno grazie io ho tenuto conto che voi già intraprendete collaborazione internazionale nell'ambito dell'elettronica e del digitale nel settore difesa mi chiedo quali sarebbero i vantaggi e gli svantaggi per le aziende come la vostra per l'avvio di una difesa comune un tema che stiamo trattando abbastanza in questo periodo quindi interessante anche un vostro parere inoltre proprio in questi giorni siamo chiamati a dare il parere al degrado legislativo che rega che rega il regolamento dell'agenzia per la cyber sicurezza nazionale a vostro avviso in ambito difesa ma anche come sistema paese quali ulteriori passi dovremmo compiere per renderci più impermeabili ai rischi attacchi cyber. Grazie. Grazie a lei onorevole. Prego la parola al dottor Marchesini. Prego. Allora ehm è una domanda estremamente complessa. Noi non ci occupiamo di cyber ma eh sappiamo come fare per essere diciamo impermeabili con i nostri prodotti. In questo senso lavoriamo con un partner italiano eh che recentemente ha avuto un riassetto nella proprietà che si chiama ESC2 ESC4 che ha una serie di prodotti formidabili per la per la cyber non è il nostro settore nei prodotti che facciamo ehm ripeto eh siamo siamo però in grado di garantire eh ciò che oggi chiede il mercato. Cosa dobbiamo fare? Eh non voglio essere polemico ma in Italia abbiamo risorse di eccellenza ehm che non sono seconde a nessuno. Ehm secondo me eh è importante mettere a fattor comune così come in altri settori più vicini a noi nell'ingegneria dell'hardware, dei materiali, delle nanotecnologie. Noi eh per quello che ci riguarda se ha visto proprio l'ultima slide una delle ambizioni molto grandi di Elesi è quella di fungere da aggregatore. Eh non facile eh però credo che ci siano ripeto molte eccellenze in necessità di eh raggrupparsi avere avere maggior eh forza sul mercato e essere in questo senso nell'interesse dello Stato sostenute dallo Stato. È piuttosto facile riconoscerle queste eccellenze perché sono quelle che già si sono affermate molto bene all'estero. Quindi non c'è una un modo particolare per capire se in Italia se in Italia c'è qualcuno bravo. Eh sono quelli che hanno ottenuto risultati simili ai nostri. Poi eh non conosco un altro metodo. Eh ho dimenticato crisi fornitura materia prime avremo costi energie eccetera. Crisi fornitura materia prime per quanto ci riguarda sul versante dei materiali compositi non vediamo la crisi perché grazie al cielo la dipendenza da dall'estremo oriente per questo è molto limitata. In più il maggior costruttore orientale di fibra di carbonio nobile è il gruppo Torai giapponese che è assolutamente allineato a ai paesi occidentali per cui non abbiamo nulla da temere. Il problema invece grosso davvero grosso è quello dei chip come diceva eh il collega eh perché perché gli americani hanno trasferito molto know how eh per abbassare i costi da in Cina e quindi siamo ragionevolmente preoccupati perché ad esempio su sistemi che facciamo noi l'ultima notizia arrivata ieri sera è che una parte eh che noi utilizziamo all'interno di alcuni piccoli dispositivi tempi di consegna espressi in mesi ce l'hanno dato sono cinquantadue mesi che vuol dire un anno eh settimane scusate che vuol dire un anno quando l'approvvigionamento normale era di di qualche settimana non di più quindi eh noi cosa facciamo ehm anche qui abbiamo la possibilità non dico di eh mettere in piedi industrie che facciano semiconduttori a partire da zero però ci sono modi di fare oggi eh che consentono di sostituire l'elettronica critica andando a implementare le funzioni di quell'elettronica che non ti danno più in un supporto di silicio e utilizzare le fonderie che abbiamo in Italia. Noi abbiamo un paio di poli eh in Sicilia e Nord Italia che sono in grado di costruire il circuito integrato che qualcuno progetta. Noi stiamo analizzando anche questo questo aspetto. È un pochino più complicato di come l'ho detto ma non non saprei altrimenti come 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 spiegarlo. Noi abbiamo queste capacità e riusciamo a tamponare in qualche modo. Certamente è uno degli aspetti che va maggiormente considerato perché gli stessi ship che mettono in crisi l'automotive sono utilizzati anche nei nostri sistemi e quindi e quindi questo questo è. Avremo costi di energia sì confermo avremo costi di energia senz'altro. Allora grazie grazie davvero volevo fare insomma i saluti a eh gli onorevoli al presidente vi volevo ringraziare davvero per tutti questi complimenti che ci fanno davvero piacere da un lato e ci danno la forza e la spinta per eh andare avanti poiché come ha detto Claudio non è facile per una piccola media impresa come la nostra eh riuscire ad essere eh pervasivi sul mercato come si vorrebbe perché il prodotto effettivamente è disruptive. La domanda è molto molto accesa. La problematica è che poi devi fare i conti con il quotidiano e il quotidiano è composto anche dalla necessità di avere ehm un volume o un volano sia economico ma soprattutto proprio di forza lavoro che ci consente di trasformare tutte queste eh questi prodotti sartoriali in qualcosa che poi eh può essere installato a bordo di unità navali. Ci sono davvero eh ma non lo dico per piageria ma ci sono davvero molti molti ehm costruttori navali che si stanno affacciando ai nostri prodotti servirli tutti insieme non è facile però nonostante ciò andiamo avanti e stringiamo i denti perché secondo me è importante. Un aspetto importante che io tocco con mano tutti i giorni. Eh nelle nostre università ci sono dei ragazzi di prima classe. Nelle nostre università ci sono dei ragazzi veramente formidabili. Io mh lavoro con l'università all'estero in Italia eccetera e vi assicuro che come come padri e come governo dobbiamo fare di tutto per loro perché ci sono persone ai miei tempi non c'erano così bravi. Ok. Bene grazie grazie ringrazio dottor Saba e dottor Marchesini per la disponibilità per l'apporto che avete dato ai lavori della nostra eh commissione ringrazio rinnovo il ringraziamento eh a tutti gli intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti